Evasione fiscale e truffa dovranno rispondere di questi reati e responsabili di tre imprese aquilane che commerciano giocattoli, due commercialisti, oltre alla coniuge, di uno dei titolari delle ditte individuali. Un'operazione è questa che è stata condotta dai finanziari del nucleo di polizia tributaria dell'Aquila, che hanno da poco eseguito un sequestro di disponibilità finanziarie e beni mobili per un valore di circa 200.000 euro emesso dalla locale autorità giudiziaria. In particolare questa misura cautelare giunge al termine di complesse indagini svolte dai finanzieri del capoluogo abruzzese, a seguito di una segnalazione inoltrata alla Procura della Repubblica dell'Aquila dall'Agenzia delle Entrate Locale. Con questa segnalazione l'ufficio finanziario ha comunicato all'autorità giudiziaria che a seguito di mirati controlli di natura fiscale nei confronti delle tre imprese era stato accertato che le stesse, al fine di evadere l'IVA e le altre imposte sui redditi, erano ricorse all'utilizzo e all'emissione di fatture fittizie per un importo di circa 200.000 euro. I finanziari del nucleo di polizia tributaria, delegati dall'autorità giudiziaria, hanno pertanto approfondito le risultanze dei controlli fiscali svolti dall'ufficio finanziario attraverso complesse analisi contabili al fine di accertare eventuali ulteriori illeciti connessi all'emissione e all'utilizzo di fatture per presunte operazioni inesistenti. Tali approfondimenti hanno fatto emergere un ulteriore disegno criminoso concepito e realizzato dagli indagati attraverso gli stessi documenti fiscali fittizi, quello di ottenere indebitamente attraverso la documentazione di costi in realtà mai sostenuti un contributo comunitario nell'ambito dei fondi strutturali PORFEST 2007-2013 stanziati per attrarre nuove imprese nell'area del cratere sismico. La lotta alle frodi fiscali e agli sprechi di denaro pubblico da sempre rappresenta tra le maggiori priorità per la Guardia di Finanza che anche attraverso forme sempre più virtuose di collaborazione con uffici giudiziari l'Agenzia delle Entrate è costantemente protesa a contrastare gli effetti negativi causati all'economia dell'evasione fiscale dalle truffe allo Stato e all'Unione Europea.